ciao Giorgio, bentornato oggi sarà una puntata senti in base a una notizia che ho sentito che dopo diciamo quale vorrei raccontare una barzelletta ai nostri amici che è questa due baresi di Bari vanno in banca per aprire un conto corrente allora il funzionario della banca che gli apre il conto corrente gli fa ma è vincolato? loro si guardano in faccia e dicono di tento in tento hai capito? e allora veniamo noi appunto dobbiamo stante il titolo che abbiamo dato a questo nostro incontro o scambio di parole noi dobbiamo utilizzare lo strumento informativo del quale ancora possiamo disporre per allargare le conoscenze del passato perché è la conoscenza del passato che si riesce a capire quanto e come il cittadino medio può intervenire può intervenire a difesa dei propri interessi non dico della libertà ma dell'interesse la propria libertà poi alla fine fa parte dei propri interessi quello che sta oggi in Italia si ha fatto scatenare un'infinità di social cioè questo è molto importante ci ricorda una particolare situazione che si è venuta a creare prima durante e dopo la rivoluzione francese perché in questi casi chi detiene il potere formale o reale che sia non le azzecca mai perché è naturale che non le azzecchi se si va a vedere alla storia della rivoluzione francese si vede che fino al 1790 non c'è stata una iniziativa presa dagli elementi governativi che fosse all'altezza del far bisogno di qui la progressiva incazzatura di quel popolo che è un popolo che ha dimostrato di sapersi incazzare in maniera molto consistente come hanno dimostrato adesso i gireggialli invagli copiati dagli italiani perché gli italiani non hanno la forza la costanza la grinta il coraggio di scendere in piazza e agire pesantemente detto questo voglio far vedere un testo che ho qui a portata di mano se ancora c'è però andiamo perché questa massa di informazioni e di opinioni comunque fanno opinione una situazione è chiaro è chiaro no? certo certo c'è comunque una situazione che si carica per conto proprio ce n'è un altro dei libri che voglio anzi voglio far vedere alcuni libri che c'ho qui prima poi di intervenire sull'argomento cui volevo parlare appunto che fa il film marzelletto che ho detto all'inizio poi questi titoli questi titoli lì Roma sul loro del caos è una storia concentratissima ma ricca di informazioni quello che si è venuto a creare nell'ultima franza dell'impero romano prima del crollo definitivo beh sì questo diciamo che ci sono dei parallelismi romani visigoti e vandali nell'ultimo secolo dell'impero 376 e 476 un caos di iniziative un caos di accordi palesi e sotto banco invidi e incredibile tra gli ultimi imperatori che erano dei cazzoni e i grandi generali che comunque c'erano ricordo un grande generale Ezio che sconfisse Attila e poi i preti hanno fatto credere che Attila se ne sia andato per i buoni uffizi di un papaccio San Leone Capito Capito questo è un altro come si manipola l'informazione beh quelli di Repubblica lo sanno guarda chi è l'autore Andrea Barbato manca a farla posta appunto se lo dice lui perché quando noi parliamo di Repubblica l'informazione i soliti i soliti che raccontano queste cose perché gli interessa a dirle no lo ha detto Andrea Barbato è chiaro aspetta un secondo prego prego insomma gli eventi di oggi ricordano un po' quelli successi verso la fine dell'impero romano perché sono molto similitudini e questo qua vediamo un attimo scusa che metti gli occhiali Coban la società francese e la rivoluzione beh questo dovrebbe essere anche interessante questi libri qui per favore alla fine li mettiamo nei titoli da dove scaturisce la scintilla che porta la gente a incontrarsi scendere nelle vie colpire coloro che vengono messi tra di loro per scompaginare difendere il regime se non si capiscono queste cose è inutile perdere del tempo e discutere ora il governo al quale partecipano strani personaggi perché è qui il punto ancora chi crede che quelle facce da stronzo che sono che si vedono come esponenti di questo governo c'è qualcuno che crede ancora che sono loro quelli che fanno le leggi che fanno le disposizioni ma poi ti immagini che si sono inventati 50 50 sì 50 mila controllori dell'ordine pubblico sta gente qua poi se ieri si sono affrettati a dire no sono disarmati non hanno valore legale le loro azioni sono un'infinità di rassicurazioni perché loro sanno perfettamente che quella gente sparsa tra una popolazione italiana altro non sono che spioni delatori infatti io li ho chiamati monatti perché questi sono monatti andatevi a leggere una delle opere più importanti della storia della letteratura italiana i pomessi sposi del grande italiano Manzoni che vi spiega per qual è la qual è stata la ragione per cui certi personaggi furono chiamati monatti e noi questi qui li dobbiamo chiamare monatti capito? sì su questo argomento poi ci fermeremo un'altra volta allora il titolo è importante di questa nostra chiacchierata perché arriva il momento in cui gli eventi che noi viviamo confermano la storia del passato beh infatti ma quale storia quella vera quella narrata dagli scrittori che vengono bollati di scrivere fake news e quant'altro ma è che la storia vera e allora io ne voglio sfruttare questa situazione per leggere due pagine due paginette sì che un amico due paginette di fotocopie che un amico mi ha fatto avere proprio questa mattina un amico che abita vicino a casa mia non so qual è il libro perché qui non c'è scritto so solo che il titolo del capitolo è questo il potere della piramide è tutto è tutto un dire insomma ecco quindi qui parleremo anche di un qualcuno che non a caso era stato soprannominato in tante maniere giusto? sì e di cui io ebbi una informazione indiretta ma molto precisa che ho anche raccontato in altre volte un qualcosa che accadde al questore che comandava una stazione di polizia che era anche responsabile di ciò che avveniva attorno a piazza Cavour a Roma e da piazza Cavour fino al Vaticano un aneddoto molto interessante che a suo tempo dissi ad alcuni amici hanno fatto anche oggetto di una chiacchierata su internet adesso partiamo da questa pagina che è la pagina 231 di questo libro che ripeto il titolo del libro non c'è queste sono fotocopie ho capito beh peccato sarebbe opportuno dopo scapire questo libro prego Moro voleva stabilizzare l'Italia il politico statunitense voleva destabilizzarla anche la moglie di Aldo Moro durante la sua deposizione disse che una figura politica statunitense di alto livello aveva detto a suo marito o abbandoni la tua linea politica o la pagherai cara noi sappiamo chi è e presumo che anche i nostri amici ascoltatori lo sappiano chi fu l'uomo di cui fece il nome Corrado Guerzoni in tribunale Henry Kissinger questa è una storia che conosciamo da lungo tempo le minacce che Kissinger fece a Moro e Moro si spaventò ben fatti tornato in Italia lo disse al vice presidente della democrazia cristiana e chi era all'epoca Galloni ah alle Gallone ho capito si 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 e poi a sua volta si spaventò quando però fu ucciso Aldo Moro Galloni venne allo scoperto e disse in maniera molto chiara in modo tale che lo seppero tutti quelli che erano interessati a saperlo e disse Moro è stato minacciato da Kissinger me lo disse subito appena tornato in Italia di conseguenza Galloni venne cambizzato infatti infatti l'ho conosciuto circa un anno fa no l'ho conosciuto prima ma l'ho incontrato circa un anno fa lui ancora soppicava no di più di un anno fa eh di più di un anno fa hai conosciuto Galloni molto di più ho capito l'hai conosciuto molto di più di un anno fa che è caso mai beh no sarà un anno e mezzo fa non dopo perché poi deve essere morto adesso eh sì che è morto ma che io sappio tu l'hai conosciuto molto più di un anno fa che mi hai parlato che gli sparò la gamba dopo che andò in Rai International a fare quell'intervista io lo incontrai siccome abitava nel mio quartiere io l'avevo già conosciuto prima sì lo incontrammo in una chiesa comune per un funerale mi ricordo benissimo e vedi che lui soppicava ancora di brutto e ci aveva il bastone infatti quanto è dato per morto come? quanto è stato e quanto è dato per morto vai a vedere per favore no Galloni è morto allora Giovanni Galloni è morto più di un anno fa anzi ti dico subito Giovanni Galloni è molto di più di un anno fa ti dico subito Giovanni Galloni è morto il 23 aprile 18 nel 18 quindi ti ho conosciuto almeno 3 anni fa va bene io me lo ricordavo ho una memoria presente no non preoccuparti ti comprendo sei più giustificato Giorgio vai tranquillo ti comprendo Giorgio e capita è una figura molto presente per me perché come dicevo l'ho incontrato più di una volta ci ho anche parlato e l'ultima volta che l'ho incontrato l'ho incontrato per un funerale allora sottotitolo Henry Kissinger di questo si parlò molto nei giornali italiani non una sola parola apparve sul New York Times o sul Washington Post sebbene una delle persone più famose d'America fosse stata accusata in tribunale di essere coinvolta nella morte di un politico straniero di primo piano rapito e ucciso da una banda terroristica libera certo quando Moro venne rapito il governo italiano rifiutò di negoziare il suo rilascio ciò suonò strano perché si era negoziato in altri precedenti rapimenti la sua famiglia non ne capì il motivo era come se le autorità non volessero la sua liberazione la verità è che non la volevano proprio infatti è vero la cospirazione dell'elite non osserva fedeltà a un unico paese o sistema politico a membri sparsi in tutti i paesi e i partiti ed essi cooperano per i loro scopi comuni è importante qui il riferimento all'elite io so che questo è una fotocopia di un libro scritto da un personaggio molto importante si americano mi parla o inglese o americano e dopo dici il nome e sappiamo chi è non te lo dico il nome perché non c'è ah ho capito ma le cose che devo leggere allora qui si parla della cospirazione dell'elite ogni tanto esce fuori questo discorso beh infatti è anche qui giudietto chiesa è scomparso da poco e quando si presentò alle elezioni per essere eletto al Parlamento europeo scrisse questo buscolo ha giudietto chiesa invece di questa sinistra invece di questa sinistra dove parla apertamente dell'elite perché non è vero che il discorso sulle elite che si fa oggi sia arrivato alla stampa solo adesso perché eravamo tanti a conoscere questa elite guarda questo next questo è una è una rivistina di importanza estrema è questa del 2003 è del 2003 ne leggerò qualcosa dopo certo assolutamente andiamo avanti lì comunque il caso Giovanni Gallone in tutti i paesi e i partiti ed essi cooperano per loro scopi comuni parlo degli elitari per loro non esistono paesi e confini se non come strumenti per spingere in conflitto una parte contro l'altra attenzione questo lo scrive un grosso personaggio inglese americano il nome è di quel tipo lì due nomi significativi trovati nelle liste degli iscritti alla P2 furono quelli dei finanzieri Roberto Calvi e Michele Sindona che bella coppia i nostri amici che ci ascoltano sanno perfettamente che di questi personaggi incredibili noi abbiamo parlato a lungo ma c'è da parlare a lungo anche perché sono stati personaggi che hanno fatto più danni di quanto non si creda con loro compare il sacro soglio sappiamo chi era e quando noi leggiamo queste cose leggiamo cose scritte da altri io finora non ho mai citato questi personaggi per citarli io stesso sono citati perché sono citati in altri testi come questo ad esempio i Gesuiti Riccardo Tristano Tuis come questo Vaticano Pedofilia questo di chi l'ha scritto? chi l'ha scritto quel libro lì? te lo dico Lui Lini da cui si capisce perfettamente che quando gli americani gli statunitensi il governo statunitense agisce contro i pedofili americani soprattutto i preti pedofili americani qui ci sono tutti i dati economici fa in realtà non una guerra moralista ma una guerra economica perché la ricchezza della chiesa cattolica negli Stati Uniti è stratosferica beh sì visto anche i soldi che hanno pagato per le cause ma qui c'è scritto tutto qui c'è scritto tutto certamente tra l'altro e soprattutto le vicende del fondatore dei legionari di Cristo ma uno dice ma cazzo ma se i legionari di Cristo sono questi ma fa culo io io mi do io mi do al mi do al paganismo integrale io ci sono già quindi non è un problema ma ne hanno fatte di tutto il contrario di tutto e sono i legionari di Cristo i legionari della madonna loro porco giuda cosa vuoi fare questi sono questi i legionari di Cristo non so chi scegliere e poi e poi non solo ma poi c'è un'altra congrega che è molto importante i cavalieri di Malta ah ma quello ti raccomando ma sono tutti stene guarda qui c'è la fluorescenza di una nota università in cui la materia è studiata e soprattutto spionaggio si trasferimento di informazioni tradimenti sostanziali e vedi caso da questa università sono usciti fuori oltre a personaggi ovviamente legati al sacrosoglio ma soprattutto a personaggi che figurano tra i grullini e tra i grullini sono stati scelti per essere messi in certi ministeri dove è bene che ci sia qualcuno aum 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 capito proseguiamo due nomi significativi trovati nelle liste degli iscritti della P2 furono quelli del finanziere Roberto Calvi e Michele Sindona fu durante le indagini sul fin trappimento di Sindona attenti che qui c'è un'informazione che io non sapevo e che bene che i nostri amici sappiano prima del finto rapimento di Sindona non era stata ancora scoperta la P2 allora fu durante le indagini sul finto rapimento di Sindona e sulla sua attività come consigliere finanziario del Vaticano tanto per cambiare e della mafia contemporaneamente lo sappiamo bene perché se tu sei consigliere finanziario della mafia lo sei automaticamente anche del Vaticano che la polizia scoprì lo scandalo della P2 di Gelli quindi la P2 di Gelli è stata scoperta ufficialmente dalla polizia ed è importante quello che scrive questa persona che sicuramente è una persona molto informata la chiesa cattolica romana aveva da lungo tempo bandito la frammassoneria e i suoi gradi nonostante ne faccia parte gran parte del suo clero e dei suoi funzionari chiaro 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 sì attenzione attenzione una cosa una cosa importante scoperta a destra a sinistra e lungo i vari angoli della bussola contro la massoneria in realtà non poteva essere differentemente chi agisce sotto banco chi agisce soprattutto con interessi economico finanziari nascosti non può non avere contatti di filiazione con organizzazioni mafiose e massoniche tant'è vero che si parla di massio masso-mafia eh io direi masso sacrosoglio mafia o sacroscoglio mafia ma è la stessa cosa durante il periodo di Gelli tuttavia quando l'ostilità ufficiale del Vaticano alla frammassoneria fu significativamente ridotta dall'oggi a P2 esercitò il proprio controllo sullo stato vatale attraverso l'infiltrazione di Gelli Calvi e Scindola attenzione porci le orecchie il papo in carica durante questi anni di infiltrazione piluista era Paolo VI che fu lui a ridurre l'opposizione nei confronti della frammassoneria non è una novità per me no all'interno della chiesa cattolica romana un editore canarese attenzione queste sono cose molto importanti che io non sapevo un editore canadese Daniel Scallen ingaggiò l'agenzia di investigazioni Pinkerton di New York quelli che davano la cassa a Jesse James ah ciao per indagare anche anche l'agenzia Pinkerton si interessò anche ai tempi di di Petrosino si interessò anche dei rapporti tra la mafia siculo napoletano americana e il crimine organizzato della mano nera negli Stati Uniti ne morì ovviamente Petrosino che fu assassinato dai mafiosi certo ripeto che qui la cosa è molto importante stai ben attento eh prego prego stai ben attento vai un editore canadese lo ripeto Daniel Scallen Daniel ingaggiò l'agenzia di investigazioni Pinkerton di New York per indagare sul comportamento del Papa e la cosa si rivelò interessante un detective andò a Roma nel 1973 e riferì che c'erano due Papa Paolo VI non erano fratelli ma questa è veramente grossa perché una frase non erano fratelli siamesi perché se non avrebbero dovuto essere attaccati in certo modo che non è il modo migliore con cui sono attaccati tra di loro i fratelli siamesi mi capisci? ma scusa il sosia di Paolo VI era uguale a lui o? questo detective suppose che si fosse fatto ricorso alla chirurgia estetica per creare un sosia del Papa aspita ma solo estetica o anche com'è? chirurgia estetica non è una novità per i preti soprattutto per il sacro sogno hai voglia tu? no ma tu sai che tu sai quella storia vera di questo di Montini Giambattista detto anche Paolo Vecchio se osservate alcune fotografie in primo piano del Papa relativa a quel periodo vi renderete conto che ce l'è assolutamente possibile in effetti ci sono differenze sostanziali ma ma dico il tipo era uguale 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 anche nei vizi eh Giorgio registrazioni su nastro di discorsi tenuti dal Papa in occasione del Natale e della Pasqua furono analizzate dalla FBI caspita che scoprì che si trattava di voci di persone differenti ah eh però durante le sue indagini la nipote del Papa che apparteneva alla nota famiglia Montini ammese davanti al detective che c'era veramente un sosia non è una novità non ci stupisce affatto sai ai tempi del Valentino quanti sosia c'erano basta leggere a fondo il Machiavelli per capirlo subito esatto durante le sue indagini la nipote del Papa mise davanti al detective che c'era veramente un sosia e aggiunse anche che la sua famiglia che faceva regolarmente visita al Papa in Vaticano era a conoscenza di ciò caspita l'indagine terminò quando il detective venne arrestato a Roma e condannato a quattro anni di prigione porca miseria in seguito fu deportato e poi sparì sparì alcuni trovarono inverosimile ciò che disse in Robots Rebellion circa l'uso di sosia per alcuni personaggi pubblici quindi questo è un autore che ha scritto anche The Robots Rebellion ma non saprei chi fosse perché ho questo libro che è chiaramente di fantascienza la ribellione la ribellione dei robot non lo conosco ma non lo è sapete oggi è stato dimostrato che Saddam Hussein che abbiamo visto dopo la guerra del Golfo non è lo stesso uomo che vedevamo prima della guerra molto probabile si trattava di un sosia creato dalla chirurgia plastica quando lo scandalo della P2 scoppiò si risultarono implicati funzionari del Vaticano dei massimi livelli incluso il segretario di stato cardinale Villot ah si Gianluio Villot secondo il libro di Stephen Knight The Brotherhood la confraternita nota del traduttore colui che secondo molti esercitò pressioni sulle gerarchie della chiesa di Roma affinché quest'ultimo attenuasse la sua opposizione nei confronti della trammassoneria il suo nome comparve anche in un altro studio condotto da David Jallop si quello sappiamo è intitolato In God's Name nel nome di Dio esatto il nome del noto del traduttore come uno dei principali sospettati per l'omicidio di Giovanni Paolo I che morì nel 1978 dopo essere rimasto in carica solo 53 giorni no 33 questo Papa probabilmente sapeva qualcosa di quello che stava succedendo sia in termini di infiltrazioni massoniche che di furto dei beni del Vaticano esatto l'ala cristiana del culto dell'occhio che tutto vede vuole infiltrarsi e distruggere il cristianesimo nello stesso modo in cui i suoi membri ebrei stanno lavorando per distruggere il giudaismo forse Papa Giovanni Paolo I era deciso ad agire per mettere fine alla manipolazione sebbene altri sostengono che si trattasse di un Papa degli Illuminati in ogni caso fu trovato morto ucciso da agenti della P2 non è difficile poterlo ipotizzare e tutto questo fu occultato con la menzogna che si trattava di una morte per cause naturali i medici attenzione anche a questa scritta che è molto interessante i medici che ebbero il permesso di esaminarlo apparvero confusi ed ognuno di loro suggerì una causa diversa infarto cancro e tumore al cervello a voi la scelta molti credono che sia stato avvelenato e noi lo sappiamo quasi per certo ma le autorità non indagarono mai per cercare la verità fu trovato morto alle 5.30 del mattino e alle 9.30 il suo corpo era già stato imbalciamato e il suo intestino rimosso e bruciato caspettina io ricordo un medico amico che si chiamava Cinzio di nome che è morto causa un tumor acido si chiamava di nome? se io andavo regolarmente a trovare come si chiamava di nome? non ti sento non ti sento non funziona come si chiamava di nome questo medico? non funzionano i miei altoparlanti come si chiamava di nome questo medico? non funzionano i miei altoparlanti aspetta un attimo porca miseria vediamo un po' mi senti? mi senti? mi senti? mi senti? non sento io ti sento gli amici da casa sentono Giorgio e me vi senti bene? tu mi parli ma io non sento tu mi senti a me? si si io ti sento certo io ti sento bene vabbè lo stesso importante parlo io si va avanti dopo voglio sapere il medico come si chiamava Cinzio questo medico che si chiamava Cinzio di nome morì all'età di 65 anni una ventina di anni fa venticinquina di anni fa con mio grande dispiacere perché mi passava sempre delle informazioni piuttosto interessanti mi chiese se io potevo rinformarmi per sapere qual era la modalità del Vaticano quando esponeva i papi morti ah perché da quanto risultava il Vaticano ha sempre esposto i papi all'interno di San Pietro si nel caso di questo qui invece Giovanni Paolo II è stato esposto in una stanza di altro tipo il che è un segnale molto chiaro ma io non conoscevo ho chiesto a qualcuno ma non lo sapeva nessuno quindi questo papa è stato esposto in una posizione chiara per chi poteva capire chiaro? un linguaggio massonico molti credono che sia stato avvelenato ma le autorità non indagarono mai per cercare la verità fu trovato morto le 5.30 del mattino ai 9.30 il suo corpo era già stato imbalsamato e il suo intestino rimosso e bruciato più chiaro di così non c'è bisogno di nessuna esposizione direi proprio non ci fu alcuna autopsia Stansfield Tarner CFR ex direttore della CIA disse che il medico personale di papa Giovanni Paolo uno dei primi a esaminare il suo corpo era manovrato dalla CIA lo stesso cardinale Villot morì nel 1979 prima che la storia della P2 venisse alla luce nel periodo immediatamente precedente alla sua morte disse che avrebbe rivelato la storia del decesso del papa Villot ma non lo fece mai i medici che ebbero il permesso di esaminare il corpo di Villot attribuirono la morte a polmonite bronchiale scusate disturbi renali no aspettate epatite anzi no emoregie interna ricordatevi di non chiamare il Vaticano se mai aveste bisogno di un medico Michele Sindona membro della P2 truffatore finanziario riciclatore riciclatore di denaro e in seguito imputato di omicidio aveva ucciso quel povero avvocato che curava il fallimento della banca di Sindona ebbe a che fare con la banca del Vaticano e con l'istituto per le opere religiose IOR e presentò il suo socio Roberto Calvi al direttore della banca il vescovo Polman Cinkus e tant'è vero che le chiamano le tre grazie no Marcinkus Calvi e Sindona le tre grazie manca a fare la porta Calvi possedeva una banca l'Ambrosiano di cui la banca del Vaticano divenne una delle maggiori azioniste grazie ai legami con la frammassoneria e allo stesso rapporto tra Gelli gli alti funzionari della banca e il Papa Gelli alti funzionari della banca e Papa e ha detto niente da tutto questo scaturì una frode immensa e quando il Banco Ambrosiano crollò nel 1982 aveva accumulato debiti per 800 milioni di sterline pura se ne sono maniate se ne sono maniate una bella città i loro amichetti la banca del Vaticano pagò ai creditori 164 milioni di sterline il che provocò una crisi di liquidità per la chiesa di Roma simile a quella che hanno dovuto affrontare i protestanti della chiesa d'Inghilterra in anni più recenti questione che io non ho mai saputo e non me ne frega un cazzo ho creduto Roberto Calvi che divenne noto al pari di Sindona come il banchiere di Iddio questo è il punto cardine era il noto banchiere di Iddio scappò in Austria e poi in Inghilterra dove arrivò il 15 giugno 1982 due giorni dopo la sua segretaria Graziella Corrocher che teneva i libri della P2 cadde da una finestra del quarto piano del banco Ambrosiano il giorno dopo anche Calvi era morto lo trovarono impiccato all'imparcatura sotto il ponte dei Black Friars a Londra con le tasche piene di sassi a 4 miglia di distanza da Chelsea Joyster dove alloggiava mentre il suo corpo veniva scoperto e la stampa veniva informata la polizia italiana e altri funzionari stavano già noleggiando un aereo per l'Inghilterra ma non c'era bisogno di affrettarsi tanto visto che un sacco di massoni infiltrati fra le autorità londinesi avrebbero potuto fornire la giusta copertura per questo omicidio un'inchiesta da parte dell'autorità londinesi si concluse con un verdetto di suicidio che appare assolutamente poco credibile un uomo che vuole uccidersi lascia il suo appartamento dove avrebbe potuto farlo benissimo va fino al ponte dei Black Friars e nonostante soffra terribilmente di vertigini si arrampica sulle impalcature sotto gli archi impalcature di cui tra l'altro non avrebbe dovuto sapere l'esistenza poi in qualche modo si stemma la corda si riempie le tasche di pietre e si impiccia sì davvero verosimile una seconda inchiesta del giugno 1983 si concluse con un vertetto aperto che almeno si rivelò un po' più sensato sebbene lontano da ciò che le prove indicavano c'era certamente del simbolismo massonico in questa morte e del resto i massoni amano i loro simboli Black Friars era un tempo la sede del convento gestito dall'ordine dominicano dei frati neri così chiamati a causa del colore dell'abito che indossavano esatto furono loro a diffondere l'uso l'uso del pulpito per questo pulpito per questo il pulpito è un motivo ricorrente nelle decorazioni in pietra del ponte di Black Friars alcuni membri della loggia P2 si vestivano come i frati neri durante i loro rituali inoltre una delle pene stabilite dai regolamenti massonici prevede di essere sepolti nella sabbia del mare a un basso livello dell'acqua a una distanza di circa 180 metri dalla riva dove la marea va e viene regolarmente ogni 24 ore qualcosa mi ricorda mi ricordo così lontanamente i distanziamenti previsti dall'attuale pseudo governo sono distanziamenti distanziamenti sociali che ci ricordano appunto l'uso massonico anche la carta dei tarocchi ritrae la morte sotto forma di un uomo impiccato vicino all'acqua noi l'abbiamo già fatta vedere più di una volta indipendentemente dal dettagliato dell'elettroscena è evidente che Calvi fu ucciso o per quello che aveva fatto o per quello che sapeva su ciò che era accaduto per tutte e due diciamo noi probabilmente per entrambe le cose ed è questa la punizione che attende molti frammassoni che non hanno più alcuna utilità sarebbe bello credere che lo scandalo della P2 rappresenti un caso isolato ma io non ci credo in moltissimi paesi sicuramente in quelli più potenti bisogna ancora scoprire non ho dubbi celluli simili di frammassoni dell'elite che creano e controllo uno stato dentro lo stato non ho accetto neanche l'idea che la P2 abbia cessato di esistere ti immagini e che il controllo dell'elite sul Vaticano sia stato rimorso ma è il Vaticano che controlla le elite perché il Vaticano ha la più grande potenza economico finanziaria del mondo cosa vai che conti che ne so la regina d'Inghilterra tanto per fare un nome o soprattutto i familiari della regina d'Inghilterra il re dell'Olanda il re del Belgio tutta gente affiliata che conosciamo molto bene cosa vai che continuano questi anche con le ricchezze che loro hanno prodotte soprattutto dalle compagnie delle Indie che contano di fronte alla potenza globalizzata del Vaticano e delle finanze vaticane da sempre globalizzata che si appale i preti petofoni l'importanza dei preti petofoni è fondamentale chi è che non lo capisce il preto è petofono se in chiappetti il ragazzino ma se in piacchetti chiappettano tra di loro e quale migliore congiunzione di quella che fanno tra di loro i preti c'era quello che si chiedeva per quale ragione i preti hanno la tonsura la tonsura la tonsura tonda qua dietro e la risposta è che serve per baciarsi quando si inculano ascolta ascolta un attimo i preti dice i nomi facoltativi e non ti senti aspetta ti chiamo io aspetta un attimo aspetta un attimo ti chiamo io aspetta un attimo ti chiamo io antonino ti chiamo io un attimo giusto che non mi senti ti chiamo col telefono purtroppo perché ahimè dunque aspetta aspetta ti dico la battuta che non hai sentito e devi rispondere a questa battuta un attimo Giorgio perché qua appunto non sento niente hai il problema che non mi senti ecco qua aspetta un attimo ti chiamo io ecco un attimo ti chiamo io aspetta ti chiamo io aspetta rispondi rispondi pronti no ti chiamo io perché non sento questo mi dispiace dice uno che i preti fanno anche i trenini no ecco così mi ha detto uno qua che fanno anche il trenino il trenino sì 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 al ritmo della samba sì arriva sempre un orario parte e arriva un orario da cioè dalla partenza a destinazione insomma al ritmo della samba sì certo questo è tutto per dire no va bene va bene ciao con le toniche che strusciano con le toniche che strusciano capito allora fra un quarto con le nacre e le marimbas eh sì ah sì aspetta un momento facciamo vedere all'amico una cosa aspetta fai 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 insomma di scatina di scatina appunto 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 quindi questo è il taburo che andrò per un ripeto quando fate il trenino e e beh insomma si dà da fare questo è il punto vabbè finisco che perché è proprio importante anche questa prego un'altra questione è proprio la sigla P2 attento eh prego un'altra questione è proprio la sigla P2 e si indica che da qualche parte deve esserci una P1 ma dove quasi certamente negli Stati Uniti o nel Regno Unito probabilmente in entrambi i paesi poi c'è il capitolo dedicato ai Cavalieri di Malta lo leggeremo un'altra volta sì certo lo leggeremo ancora anzi però questo P2 può voler dire anche che Paolo i Paolo sono due eh è ovvio è ovvio sì sono due certo dopo di che siccome tu non sento quello che dici siamo costretti a chiudere qui sì o chiudiamo qui eh un altro che ti dico di stare lì prima della chiusura voglio leggere una frase qui che è molto bella sì sì da questa rivista va bene che è la rivista della facoltà di sociologia dell'Università di Roma è una specie di racconto ma è indicativo parla di una certa persona talvolta gli succedeva di chiedersi se quella era la sua vita lui che aveva sempre detestato finire tra la gente in mezzo alla confusione ma poi cancellava la vena di malinconia gli altri lo cercavano lui parlava poco lei era così elegante una caviglia seducente il tuo uomo delle strategie è impresentabile sembra un baratto lo disse facendo il broncio ma col tono di una che era ormai nella parte di signora del presidente così anche l'ultimo ostacolo venne rimosso gli presentò una sua amica quella che presenta l'amica è la signora del presidente gli presentò una sua amica è bravissima disse è quella che ci vuole vedrai vide uno splendore di fanciulla non c'era dubbio e anche intraprendente apprezzò la generosità della sua compagna che non aveva timore di doversi confrontare a conferma che le malelingue erano in torto insieme la nuova e la vecchia vecchia punto interrogativo formarono una coppia perfetta una in famiglia una sul lavoro poi come naturale i fai si mescolarono e tutto divenne più fluido ogni cosa trovava la sua collocazione naturale e i problemi non sembravano aver modo di radicarsi fu un periodo di feste bellissime la strategia non ebbe successi apprezzabili ma il divertimento era assicurato alla sua età non se la sentiva di pretendere di più in casa ci furono dei cambiamenti impercettibili prima lei sostenne che era più igienico avere camere separate lui aveva i suoi ritmi e andavano rispettati per non disturbare le sue riflessioni serali inoltre le due amiche si adattarono a restare fuori sempre più spesso così che tornando non c'era alcuna ragione di svegliarlo alla sua età si recupera più lentamente e lentamente si prende coscienza così quando si accorse non reagì male alla mia età già guardare è una benedizione si disse loro glielo concessero eh sì capito? immagino ho capito bene ho capito bene un altro ti chiamo ti chiamo perché col telefono perché qua purtroppo tu non mi senti qui siamo sempre nell'ambito di un giudizio dell'imperialismo compassionevole di Bush ecco allora allora Giorgio visto che tu non mi senti adesso studiamo mi detti i titoli dei libri che hai fatto vedere ok certo poi dopo facciamo presto un'altra seconda puntata in modo tale che vediamo anche di sentirci bene perché sicuramente c'è qualche cosa che sì ma tu parlavi prima tu mi hai parlato prima e adesso si è bloccato qualcosa adesso ah ma io ma tu prima mi sentivi prima o no sì sì quando abbiamo quando ci siamo sentiti all'inizio ci sentivamo benissimo e poi dopo non mi hai più sentito esattamente ho capito beh niente allora rimanda lì così col telefono attaccato che mi letti in titoli intanto saluto esattamente va bene ti saluto e facciamo presto un'altra puntata va bene perfetto perfetto saluto a tutti e a presto amici scusate l'inconveniente purtroppo sono cose che capitano sperando che non capitano più ecco qui saluto